Musica Amici telespettatori ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete Quest'oggi in apertura al nostro telegiornale il maxi concorso della regione Campania che è partito tra le proteste Queste le notizie che giungono da Napoli Tensioni alla prima giornata di test tra ritardi e lunghe file Vediamo il servizio Una falsa partenza quella di questa mattina per la prima giornata delle prove preselettive del maxi concorso Ripam Campania Gestito presso la mostra ad oltremare di Napoli dall'associazione Formez per conto della commissione Ripam Dipartimento della Funzione Pubblica Un ritardo di circa due ore prima dell'inizio dei test Che si è aggiunto alla già lunga attesa per tutti i partecipanti in fila dalle prime ore del mattino Per le procedure di identificazione con l'ufficiale assegnazione del posto a sedere per prendere parti alla prova L'interminabile attesa, le lunghe file affollate ma anche l'assenza dell'aria condizionata Sono stati un deterrente per molti che in preda alla stanchezza sono andati via abbandonando il concorso Ricordiamo che da oggi fino al 24 settembre dovrebbero essere ben 303.965 i candidati Che dovranno cimentarsi nelle prove preselettive del corso concorso Non sono mancate le polemiche all'interno dei padiglioni adibiti per la prova preselettiva Difatti in più di un'occasione è stato richiesto anche l'intervento della polizia per placare gli animi dei presenti Poco prima delle 12 l'apertura dei test Gli elaborati saranno corretti in seduta pubblica in località da definire al completamento delle prove preselettive E dunque solamente a partire dal 25 settembre Ed intanto, proprio questa mattina, l'augurio del presidente della Campania Vincenzo De Luca Un saluto ed un in bocca al lupo agli oltre 303.000 concorrenti A tutti i ragazzi e le ragazze che potranno cogliere un'opportunità di lavoro vero Che può cambiare la loro vita Ricordo, continua De Luca, che è solo la prima delle iniziative che svilupperemo in tema di lavoro Entro la fine del prossimo mese di settembre partirà un altro concorso per 650 posti stabili nei centri per l'impiego della regione Campania E stiamo già lavorando per un ulteriore concorso ad inizio 2020 nell'ambito del piano del lavoro della Campania Si apre così la stagione della speranza e della concretezza per i giovani della nostra regione In un quadro di trasparenza e di correttezza assoluta Sabato di controlli intensi per gli ispettori ambientali di Cava dei Tirreni Che hanno inflitto quattro sanzioni per conferimento di rifiuti fuori calendario È stato un sabato di fervide attività per gli ispettori ambientali di Cava dei Tirreni Coordinati dal Cavaliere Livio Trapanese Infatti nella serata del 31 agosto i volontari sono entrati in azione in diverse zone della città Elevando quattro verbali, ciascuno di 100 euro, per conferimento di rifiuti fuori calendario In via Papa Giovanni XXIII, all'angolo di via Generale di Filippis In via Giuseppe del Russo e in via Michele Baldi della frazione Santa Lucia Sono stati effettuati inoltre appostamenti in diversi punti di raccolta critici Gli ispettori ambientali hanno puntato i riflettori anche su di un altro fenomeno Che recentemente ha rappresentato un effetto negativo della movimentata movida cavese Ossia la deprecabile abitudine di abbandonare bottiglie di vetro e lattine Nell'area antistante la chiesa di San Francesco e Sant'Antonio Così, durante queste specifiche operazioni di controllo A seguito della segnalazione dei residenti I volontari ispettori sono intervenuti per allontanare un nutrito gruppetto di adolescenti e non Entrati nel parco giochi di via Schreiber Chiuso per manutenzione successivamente al danneggiamento delle giostrine Che erano intenti a vandalizzare ulteriormente Ringrazio i ragazzi del nucleo ispettori ambientali volontari Ha affermato l'assessore Nunzio Senatore Per l'impegno, la passione e il senso civico che stanno dimostrando Basterebbe prendere esempio da loro Ed avremo certamente una città più bella e decorosa Andiamo avanti con la cronaca Coltivava maricuana in casa Arrestato un pregiudicato cavese Nel corso della perquisizione domiciliare Un poliziotto è stato azzannato dal cane dell'uomo Un cinquantenne pregiudicato cavese È stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato In quanto responsabile del reato di coltivazione e detenzione Ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Con recidiva infracinquennale della stessa indole E l'esistenza e lesione a pubblico ufficiale L'operazione di polizia ha portato al sequestro Non solo di un copioso materiale per coltivare, confezionare E vendere dosi di sostanze stupefacenti Ma anche di un rilevatore di microspie Funzionante rinvenuto nell'immediata disponibilità dell'arrestato L'attività è scaturita da controlli info-investigativi Che nei giorni scorsi avevano evidenziato Un notevole flusso di veicoli sospetti Entrare ed uscire da un'abitazione Sita in una località collinare del comune metelliano Gli agenti, insospettito della situazione Hanno deciso di procedere ad una perquisizione personale e locale Nel corso della quale hanno rinvenuto complessivamente Otto piante di sostanza stupefacente di tipo marijuana Di cui sei in stato vegetativo All'interno di una stanza chiusa a chiave Adibita a camera da letto dell'addestato È stata rinvenuta una macchina per confezionare sotto vuoto Due bilancini di precisione Nonché due vasi in vetro Contenenti sostanze stupefacente Di tipo marijuana in stato essiccato All'interno di un mobile Inoltre è stato rinvenuto un rilevatore di microspie Con auricolari perfettamente funzionanti Durante le fasi della perquisizione domiciliare Inoltre uno degli agenti è stato azzannato Da un cane di grossa taglia di proprietà dell'arrestato Che lo aizzava con lo sguardo e con movimenti delle mani Contro l'operatore di polizia Che è stato successivamente visitato Presso l'ospedale Santa Maria dell'Ulmo Dove i sanitari gli hanno riscontrato Ferite guaribili in sette giorni Ancora cronaca A Battipaglia gli agenti della polizia locale Hanno scoperto una casa fittata a prostitute Il proprietario è stato denunciato Mentre l'immobile è stato posto sotto sequestro Affitta la propria abitazione In una palazzina di via 4 Novembre a Battipaglia Due prostitute Una dalla Repubblica Dominicana L'altra colombiana Denunciato il titolare dell'appartamento Ora sottoposto a sequestro preventivo Dove le due antrenese Ospitavano i clienti A scoprire il giro d'affari Con il deferimento dell'uomo Per la violazione della legge Merlin Sono stati gli agenti della polizia municipale Agli ordini del colonnello Geraldo Iuliano Entrati in azione Dopo aver osservato per ore L'ingresso e l'uscita Dallo stabile di via 4 Novembre Di varie persone A questo punto In Curiosity hanno proceduto Al sopralluogo Che ha permesso di rinvenire Le due cittadine extra comunitarie Comunque regolari In materia di permesso di soggiorno E le indagini proseguono in questi giorni Anche per rintracciare Altri luoghi Appartamenti adibiti All'esercizio della prostituzione Nel centro capofila Della Piana del Sele Sport calcio Seconda giornata Campionato di calcio Di serie C Girone C Vediamo insieme I risultati del campionato Picerno Rieti 2 a 1 A Bari Viterbese Batte Bari 3 a 1 Bisceglie Catanzaro 1 a 1 Casertana Errende 2 a 0 Catania Virtus Francavilla 2 a 1 Paganese Monopoli 2 a 0 Regina Cavese 5 a 1 Ternana Batte Potenza 1 a 0 Avvivo Valencia Lavellino È andato a vincere 1 a 0 Non disputata Teramo Sicula Leonzio Rinviata Data da destinarsi La classifica Vede al primo posto Dopo due giornate Catania Ternana E Viterbese A 6 punti 4 punti Per Regina Bisceglie Catanzaro E Picerno A quota 3 Abbiamo Casertana Paganese Bari Potenza Monopoli Avellino 1 punto Per Francavilla E Cavese 0 punti Ancora per Teramo Sicula Leonzio Vibonese Rende E Rieti Ricordiamo Che il Teramo E la Sicula Leonzio Hanno una partita Da recuperare Dunque Cavese Sconfitta Per 5 a 1 Sentiamo le analisi Dei due allenatori Francesco Moriero Per la Cavese Domenico Toscano Per la Regina Dopo una prestazione Del genere È difficile Anche commentarla Perché Nel calcio Secondo me Si può anche perdere Perché c'è sempre Un avversario Bisogna Perdere anche Con dignità La partita Era stata preparata In un modo Diciamo che Quando siamo entrati In campo Abbiamo Ho avvertito Comunque Il rispetto Della Regina Verso la Cavese Poi abbiamo Preso il primo gol E la Regina Ha cominciato A giocare E purtroppo Col fatto che La squadra È anche imbottita Da molti giovani Può succedere Che il giovane Faccia degli errori Antiparici Però Diciamo Il mio dovere È quello di Ricaricare le batterie Perché La prossima domenica C'è un'altra 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 partita Sicuramente Non sono contento Ma sono qui A mettere La faccia A chiedere scusa I nostri tifosi Che sono venuti da Cava E Chiedere alla squadra Molto più impegno E molto più equilibrio Perché comunque sia Durante la settimana Lavoriamo in una certa maniera Oggi Vuoi tanta gente Vuoi che comunque sia Il giovane Magari ha sentito Della pressione Del pubblico Vuoi che la partita È importante Vuoi Conti comunque Una squadra importante Qualcosa Non è andato Nel verso giusto Per cui Quando perdi una partita In genere È meglio stare zitti Chiudersi la bocca E lavorare E ripartire Che non mi è piaciuto No Però che potevamo fare meglio Sì qualcosa Soprattutto Dopo che abbiamo iniziato Forte Abbiamo portato La partita sul 3-0 Secondo me È una squadra Che vuole giocare così Non puoi Non puoi abbassare L'intensità Del tuo gioco Noi l'abbiamo abbassata Non l'abbiamo fatto Era un momento Che magari Potevi gestire meglio La circolazione La palla E far correre loro Piuttosto che correre noi Invece abbiamo Passato un pochettino Il ritmo Abbiamo concesso 10 minuti Un pochettino Il campo Abbiamo commesso L'errore del rigore Che è il terzo La cosa mi sta Iniziando a preoccupare Perché ogni Poi magari Ogni situazione C'ha la sua dinamica Però bisogna andare A analizzare Poi secondo me Anche il secondo tempo Chi è entrato Ha fatto bene Ha alzato ancora Il ritmo E l'intensità Della gara Abbiamo fatto Dei gol Di ottima fattura Non era facile Affrontare la Gavese Perché poi Noi magari Guardiamo il risultato Di 5 a 1 Però la Gavese Non è una squadra Facile da superarla Noi siamo riusciti E siamo stati bravi Ci godiamo Questa vittoria E questa prestazione Dobbiamo essere contenti Della prestazione E di quello che abbiamo fatto E da domani Pensare al Bisceglie Perché qua È un campionato Anche i risultati Che ho visto Chi avrà la più Resistenza Più alta resistenza mentale Riuscirà a inanellare Risultati positivi Che lo potranno portare A posti di classifica Un pochettino più Prestigiosi Rientriamo in studio Proprio ieri sera Alcune ore dopo La partita Di Reggio Calabria La Gavese Ha emesso Un comunicato stampa Nel quale Il presidente Santoriello Ribadisce A tutto l'ambiente Che si è solo Alla seconda giornata Di campionato L'obiettivo stagionale È la salvezza Societaria e sportiva Della Gavese L'allenatore E il DS Oltre alla squadra Hanno la fiducia Della società E se ci sarà Da fare qualche intervento Sul mercato La Gavese Non si tirerà indietro Sapete che il calciomercato Dei professionisti Si chiude oggi Alle 22 All'hotel Sheraton Di Milano E che le società Possono fare trattative Solamente lì A tal proposito Vi diamo conto Di una notizia Che possiamo darvi Perché è ufficiale Viene dalla società Della Gavese Il club metelliano Rende noto Che il fantasista Miguel Angel Sainz Mazza Continuerà a vestire La casacca Blufonset Dopo un chiarimento Tra le parti Avvenuto Nelle ultime ore Nei prossimi giorni Ci sarà un ulteriore incontro Per il prolungamento Del contratto in scadenza Nel 2020 Quindi La Gavese Sta lavorando Per trattenere Sainz Mazza Bene Ora è però Il momento Di sentire I pareri Di alcuni giornalisti Metelliani Su questa Gavese Che ripetiamo Ieri ha perso Per 5 a 1 A Reggio Calabria Ascoltiamoli insieme Nuzio Siani Qual è il tuo pensiero Su questa Gavese Che è stata battuta Per 5 a 1 Fuori casa Dalla Regina Un solo punto In classifica Per la squadra Di mister Moriero Che ieri Ha perso Pesantemente Al granito Diciamo subito Orlando Che siamo all'inizio Del campionato Quindi è evidente Che trarre oggi Un giudizio Fare un bilancio Dopo 180 minuti Mi sembra Particolarmente Severo Direi Siamo ancora Ieri eravamo ancora Ad agosto Calcio ad agosto Non ti conosco Fondamentalmente Cioè siamo ancora In una fase Della stagione Troppo Troppo Iniziale Per poter tirare Le somme È evidente Che la sconfitta Di ieri Ha messo in evidenza Una serie di criticità Criticità Che riguardano Un po' Tutti i settori Qualche prestazione Dei singoli Non è stata Sicuramente Delle migliori Moriero A fine partita Tu l'avevi ascoltato In sala stampa Ha Diciamo messo in evidenza Anche la giovane età Di questa squadra Soprattutto di molti elementi È anche vero Che Non è tanto Questo Che mi preoccupa Non tanto La gioventù O qualche prestazione Dei singoli Che non è Al momento Eccelsa Ma guardando La partita Di Picerno E guardando Le immagini Di quella Di Reggio Calabria Fondamentalmente Quello che al momento Sembra mancare È un'identità Di squadra Forse è questo Che al momento Lascia un attimo Più di perplessità Commentare la partita Di ieri È difficile A me viene Un solo termine Da ieri È stata Dopo la gara Imparattante Perché ieri È stato imparattante Quindi Immagino Sia solo Un passaggio A fuoco È ovvio Che qualche Preoccupazione Inizia a crescere Perché la seconda partita Che la Garezzo Riesce a sciorinare Una benché minimazione Degna di tal nome A presso Calabria Siamo stati in baria Dei padroni di casa Sì che sono una squadra Che devono Puntano La serie Di diretta Però Essere così Spendere un'imparcata Del genere Senza colpo Che dire Veramente Non ce lo aspettavamo Ora Ovviamente Bisogna Che morire O lavori Lavori Per tentare di trovare Una squadra Una squadra Che fino a questo momento Sembra non avere Nel Stato E nessuno Cambierà tutto Secondo te Solamente Se la Cavese Vincerà Contro la Bibonese Domenica Bisogna Che la società Gia fiducia A mister morire Perché sono passate Alcena Due partite Di campionato E una di coppa Tre partite Per dare un giudizio Definitivo Sull'operato Di un tecnico Mi sembra Un po' Troppo Eccestivo In ogni caso Più che la partita Di domenica Noi vedremo Già dai movimenti Di mercato Di questo pomeriggio Come la società Ha giudicato L'operato Della squadra Soprattutto Più che di morire Perché più saranno Gli acquisti Più vuol dire Che saranno I bocciati Di questa prima fase Di campionato Diciamo che L'allarme suona Però C'è anche da dire Che A due partite Dall'inizio Di questa stagione Quindi nel senso Che è ancora Troppo presto Prematuro Bocciare Tutto e tutti Allarmarsi Fa bene Però Non ci possiamo Cullare Su scuse Legate Legate Magari Al fatto Che questa squadra È stata cambiata Per oltre il 90% Non possiamo Accampare scuse Sul fatto Che dopo Ormai Qualche mese Di lavoro Sembra che Quest'anima Di un gruppo Unito Non ci sia Insomma Si dimostra Nei fatti Che c'è Moltissimo Da lavorare Però Diciamo che Sicuramente Chi è preposto Per curare Questi Acciacchi Stagionali Perché si dice Sempre che Il calcio D'agosto Adesso siamo entrati In settembre Da un giorno Dicevo Il calcio D'agosto Non fa testo Diciamo che Però serve Per preoccuparsi Se le cose Magari in qualche reparto Non vanno Per il verso giusto Abbiamo Bendonde Ci sono almeno Un paio di reparti Che hanno Testimonato Difficoltà Oggettive Sia Al Romeo Menti Sia Al Granillo Queste Defaianze Si sono viste E quindi Sicuramente Patron Santoriello Ha le idee chiare Sa Ha visto Sicuramente Non è contentissimo E dunque Ci dobbiamo attendere Nelle prossime giornate Qualche correttivo In corso d'opera Ricordiamo che La prossima giornata Di campionato La terza Vedrà la Cavese In campo Contro La Vibonese Si giocherà Alle ore 15 Di domenica 8 settembre Allo stadio Menti di Castellammare Di Stabia Non abbiamo Altri aggiornamenti Il telegiornale Termina qui L'informazione Di RTC Quarta Rete Ritorna alle prossime Edizioni Grazie per la cortesi Attenzione Buon proseguimento Di giornata Con i nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti